Le previsioni meteo in Sicilia per mercoledì 20 novembre di Globus Television. Mercoledì, atmosfera stabile sulla nostra regione.Giornata con generali condizioni di bel tempo, cielo si potrà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Venti di libeccio moderati. Temperature massime fino a 24 gradi, minime per lo più stazionarie. Grazie a tutti.